Mi chiamo Nadia, ho sette anni, io vengo da Castelfidardo, che c'è tante cose, ci sono tante persone. La mia famiglia è composta da mio fratello, che si chiama Samuel. Ma è un bocca al lupo. Mia madre, che si chiama Florence, e mio papà, che si chiama Samuel. Queste tre cine me le fa mia madre e la mamma di una mia amica mia, che si chiama Kimberly. Per fare una pettinatura ci vogliono due ore. Io sto iniziando a suonare la fisarmonica perché è molto bello, perché mi piace e perché non ci ho provato mai. Non ho fidanzato. Durante le lezioni, certe volte, canta. È divertente. Nadia è una brava bambina e alcune volte Nadia mi vuole insegnare a cantare. Ha trovato questa fortuna per andare nello Gekinodon. A me Nadia mi piace di quando ho iniziato la seconda. Io chanmi che ha uno Gekinodon così ci possiamo fidanzare finalmente. No, 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 no!